La scuola dell'infanzia verrà ricostruita, quindi si prevede l'abbattimento e la ricostruzione. Ovviamente questa operazione ci consentirà di avere un asilo a passo con i tempi, quindi avrà molte caratteristiche come quella dell'efficientamento energetico, della sostenibilità anche ecologica, perché sono diverse caratteristiche. Oltre all'efficientamento noi andiamo a fare anche il recupero delle acque meteoriche, che fu tra l'altro un ordine giorno che presentai da Consiglino nel 2012, che in questa occasione siamo riusciti anche a portare a termine. Oltre che a ridare un servizio in un asilo più confortevole, 60 bambini e teramani che conoscono bene questo asilo. La situazione della Spuno è una situazione che è un malato che non abbiamo trovato in fin di vita, e sembra un malato che non ha risolti i suoi problemi, ma sicuramente oggi c'è una cura che sta andando avanti e che di fatto consentirà di avere una situazione completamente diversa rispetto a un debito che continuava a prodursi tutti i giorni e che di fatto porteremo ad avere una situazione debitoria corrente in positivo. Quindi dovremmo passare, una volta messi in campo tutte le azioni che abbiamo spiegato, da un debito corrente ogni anno di circa che si creava di 2 milioni, dovremmo portarlo a un utile di 2 milioni. Questi utili ovviamente ci consentiranno di ripianare quel debito di 12 milioni che abbiamo trovato. Abbiamo l'idea di fare il dopo di noi in una struttura che abbiamo a Corropoli, che è il cui progetto sta per essere rimesso. Come ho detto prima, la RSA a Regina Margherita, l'asilo ne abbiamo parlato, poi abbiamo questa idea di costruire dei mini appartamenti per persone anziane e autosufficienti in via Nicola Palma e in più su via Taraschi rispetto ai finanziamenti che c'erano inizio, che poi sono stati modificati, ma anche là abbiamo intenzione di mettere sempre attività legate al socio-unitario che possono essere legate a patologie sempre gravi oppure addirittura, stiamo pensando, centri di riabilitazione.